tanta paura per antonella in stazione la bella antonella fiordelisi influencer modella e schermitrice è stata in queste ore al centro di una spiacevole disavventura lo ha raccontato proprio lei su una storia su instagram che ha fatto preoccupare tanti fan e non la razza ha detto mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia in mano per fortuna è venuto subito il tassista non mi ha fatto nulla ero sola non è la prima volta che mi succede l'ultima volta a milano un altro pazzo sotto casa per fortuna solo tanta paura ma antonella sta bene ed è già pronta ad affrontare i suoi numerevoli impegni lavorativi con a fianco il suo splendido finanziato e guardo donna